Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. In coincidenza con la ripresa dell'attività politica, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vittorio Nola, suona la carica all'esecutivo sui temi legati all'agricoltura, all'ambiente e all'assestamento di bilancio necessario, ha detto, per pagare i debiti della sanità e dei trasporti rilevati dalla Corte dei Conti. Il governo Conte manterrà gli impegni assunti con il Molise, ha tra le altre cose dichiarato Nola. Sentiamo Giovanni Minicozzi che lo ha intervistato. La soluzione delle tante e troppe emergenze irrisolte del Molise si intreccia inevitabilmente con la formazione del nuovo governo e con le decisioni che vorrà assumere l'esecutivo regionale al di là delle vaghe e reiterate promesse. Un'esecutivo è una maggioranza in evidenti difficoltà dovute a contrapposizioni interne con conseguenti prese di posizioni al vetriolo e possibili riposizionamenti di alcuni esponenti politici di centrodestra. Intanto il Movimento 5 Stelle con Vittorio Nola suona la carica su assestamento di bilancio, ambiente e territorio. Da qualche mese che notiamo nei lavori del Consiglio regionale che c'è qualche frizione di troppo e spesso e volentieri negli ordini del giorno non si trattano argomenti sensibili, proprio perché probabilmente non c'è coesione all'interno loro. Un esempio è dato proprio dalla prossima convocazione che c'è stata stamattina per il 10 settembre dove all'ordine del giorno ad esempio non compare nulla per quello che riguarda l'assestamento al bilancio del 2019 che sappiamo avere due problemi. Uno che riguarda i debiti extra bilancio per la sanità e il secondo dei debiti extra bilancio per il trasporto su ferro. Uno dei problemi seri è la tutela ambientale. Noi a Doras, diciamo, nei prossimi due giorni abbiamo ricevuto l'Iban dal comune di Benafro e quindi parteciperemo con una somma che poi sarà dichiarata per contribuire allo studio epidemiologico e ziologico creato dalle mamme della salute e dal CNR di Pisa e quindi manteniamo le promesse che abbiamo fatto a quella piana. Ma la nostra intenzione è di allargare lo studio anche alle altre aree del Molise ma soprattutto di insistere in regione perché sia reso operativo il registro tumori dove stiamo perdendo del tempo. Anche il settore dell'agricoltura in questa regione è in grosse difficoltà. Eh sì, ormai abbiamo visto che i cambiamenti climatici stanno creando veramente dei danni pesanti ma noi abbiamo un problema enorme ormai che riguarda il Molise e anche altre regioni che è l'invasione dei cinghiali. Bisogna intervenire, bisogna risarcire i danni soprattutto ma soprattutto bisogna intervenire proprio e non basta la caccia, ormai è noto, non basta la caccia e nemmeno quella di selezione. Quindi anche qui abbiamo fatto delle proposte tra cui inserire nel PSR nuovo in elaborazione la richiesta in Europa che potrebbe valere anche per le altre regioni interessate al caso, di polizze assicurative che dovrebbero essere stipulate dalle regioni proprio per pagare i danni. Nelle prossime ore dovrebbe nascere il nuovo governo Conte, il Conte Bis. Lei ha votato sulla piattaforma Rousseau, come ha votato e che speranze ripone in questo nuovo governo? Diciamo io mi onoro di aver conosciuto il Premier Conte sia a Campobasso sia a Palazzo Chigi. Il governo lo chiamerei correttamente Conte 2 perché non è la continuazione di un rimpasto di governo ma è obiettivamente un nuovo governo. Nutro molte speranze, molti auspici positivi per la nostra regione. Mi auguro che il Premier Conte ritorni in Molise a breve per siglare i CIS con i correttivi del caso che abbiamo suggerito. Quindi noi lavoreremo per questo. La prima riunione del Consiglio regionale dopo la pausa estiva si terrà martedì prossimo e sarà quella l'occasione per capire meglio lo stato di salute del centro-destra che al momento appare comatoso. Incontro sulla vertenza GAM oggi in giunta regionale. Ancora ombre sul futuro dei lavoratori. Avanzate richieste precise al governatore cui dare risposte veloci e certe. Sentiamo. Un incontro di oltre due ore e mezza in giunta regionale sulla vertenza GAM rappresentanti di CGL, Cisle, Will, RSA e Toma intorno al tavolo. Fuori il presidio dei lavoratori. Restano le ombre sul futuro dell'azienda vicola di Boiano e sugli stessi lavoratori che aspettano chiedono il rispetto del contratto siglato da Amadori di dare seguito all'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale e soprattutto la convocazione urgente del tavolo al Ministero. La cassa integrazione scade a ottobre. Le soluzioni sono ancora tutte da mettere in campo. Per il momento è stato sollecitato l'incontro al Mise perché non ci sono risposte concrete. Forse anche perché c'è una crisi di governo irresponsabile in atto e questo lo abbiamo rimarcato all'unanimità oggi, almeno questo. È stato fatto un sollecito per questa richiesta che è preliminare. Inoltre c'è stato l'impegno finalmente di mettere in atto i provvedimenti per quanto compete la struttura regionale per l'attivazione delle politiche attive e quindi finalmente abbiamo ottenuto date certe per la profilazione dei lavoratori. Entro lunedì dovremo avere un'azione concreta da questo punto di vista che ci permette anche di andare al Ministero quando saremo convocati con qualche proposta concreta per quello che è il futuro non solo della gamma ma di un'area più vasta che riguarda l'intero futuro dell'area di crisi complessa molisana. Per quanto riguarda la cassa integrazione? Cassa integrazione c'è una flebile speranza, mettiamola così, voglio essere cauto e prudenziale. Chiaramente ormai si sa è vincolata alla continuità lavorativa, noi ce ne stiamo mettendo tutta ed anche per questo, lo dico da sindacarista, stiamo provando anche a mantenere un po' di toni bassi rispetto a questa flebile speranza di manifestazione di interesse, l'unica, ricordiamola, attiva in area di crisi complessa che è attinto da un finanziamento pubblico e che quindi presuppone che ci siano anche dei vincoli sulla rioccupazione e sul riassorbimento dei livelli occupazionali di quanti sono stati espulsi dal mondo del lavoro. Noi ci lavoreremo incessantemente, c'è un'apertura da parte del Ministero del Lavoro ma chiaramente credo che su questo dovremmo riaggiornarci necessariamente quando ci sarà una composizione non solo tecnica ma anche politica strutturata a livello di governo centrale. In che tempi? L'apertura dei tempi sono quelli, noi entro il 4 ottobre dobbiamo avere un quadro certo della situazione perché le vicende di curatele fondamentali e la vicenda che riguarda anche quello che può essere una continuità aziendale da dare dipende necessariamente da questo tempo. Il 4 ottobre è una data fatidica, entro quel periodo, entro questa data noi dovremmo necessariamente portare un atto concreto che parli di un interesse vero di Agricola Vicentina, di Amadori a restare su quel territorio con una proposta di allargamento produttivo e occupazionale altrimenti non abbiamo credo più speranze per riallacciare anche questi lavoratori a un processo di cassa integrazione. E alla riunione in regione è presente anche l'assessore regionale Mazzuto e i direttori del Dipartimento Primo e Terzo e quello delle Servizio Politiche per l'Occupazione. Riguardo la convocazione al Ministero dello Sviluppo Economico, Tom ha detto di aver sollecitato di nuovo l'incontro con richiesta apposita lo scorso 22 agosto e che sia ancora in attesa considerata la situazione politica nazionale. I sindacati hanno sollecitato la regione a utilizzare ogni canale, anche informale, per velocizzare il vertice al Mise. La regione poi si è impegnata ad attivare la profilazione dei lavoratori, come avete sentito, dei lavoratori della gamma tramite centri per l'impiego da lunedì 9 e da completare comunque nella prossima settimana al cui esito le parti hanno deciso di aggiornarsi. La profilazione è indispensabile per l'istruttoria dell'incontro al Ministero e nei prossimi giorni i lavoratori continueranno la mobilitazione e una delegazione sarà ricevuta in prefettura a Campobasso giovedì alle 11.30 per l'occasione. È previsto un presidio davanti al Palazzo di Governo. La tecnica più utilizzata in questo periodo, quella della consegna di un pacco, ha consentito ai truffatori di mettere a segno diversi colpi. L'ultimo appena ieri a Santa Croce di Magliano ha fruttato 4.000 euro. Gli investigatori invitano gli anziani a denunciare. Sentiamo Giovanni Di Tota. Una telefonata che annuncia la consegna di un pacco per conto di un parente, il più delle volte un nipote. Dall'altra parte del cavo, la vittima prescelta è di solito una persona anziana che accetta di ricevere il pacco. Una volta arrivato il momento della consegna, la merce viene consegnata ad una cifra molto maggiore rispetto all'ordine e la truffa è confezionata. Un fenomeno in forte ascesa, soprattutto in questo periodo, quando in casa le persone anziane restano quasi sempre da sole. Lo sanno bene i truffatori che in poche settimane hanno messo a segno diversi colpi. È accaduto appena ieri a Santa Croce di Magliano, dove una coppia di anziani è stata raggirata e derubata di 4.000 euro con una tecnica analoga. Sull'accaduto indagano i carabinieri. E anche a Campobasso i truffatori sono andati a segno in due occasioni, obiettivo sempre persone sole e anziane, con la scusa di dover consegnare un pacco ordinato da un familiare. 1.000 euro il 31 agosto. Anche in questa circostanza indagano i carabinieri. La polizia invece indaga sul furto di 500 euro subito da una donna che, oltre alla truffa, si è vista portare via anche l'oro che aveva in casa. E questi sono i casi in cui viene sporta denuncia, perché, sottolineano gli investigatori, nella maggior parte un po' per la vergogna di essere stati raggirati e un po' per paura di subire ritorsioni. Le persone non denunciano e gli autori dei reati restano impuniti. Per questo le forze dell'ordine, nel raccomandare la solita diffidenza nel ricevere persone in casa, invitano, nel caso in cui il tranello abbia funzionato, di non avere timori e di denunciare la truffa. Incidente alle porte di Campobasso all'inizio di Ingotte, nel tratto compreso fra la rotatoria e l'innesto della tangenziale tra una Opel e una Mercedes classe C. Vedete le immagini. La Opel nell'impatto è stata speronata, pare ed è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi. La ragazza alla guida è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. La giovane è stata estratta dall'abitacolo e portata in ospedale a Cardarelli per le cure mediche. Il traffico ha subito rallentamenti e è stato regolato dagli agenti della stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. È in gravi condizioni un uomo di circa 40 anni rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro a Montenero di Bisaccia. Era a lavoro in un immobile quando è rimasto ferito in modo grave alla testa. Sembra sia accaduto la dinamica dell'incidente. È ancora poco chiara ed è al vaglio dei carabinieri. Accompagnato a Santimotio di Termoli, l'uomo è stato trasferito nella divisione di neurochirurgia a Pozzigli a causa di un trauma cranico. È in prognosi riservata. La Coldiretti ha stimato i danni dei giorni scorsi provocati dal maltempo. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. Pioggia battente, violente grandinate, vento e temperature in calo sembra essere piombati di colpo in autunno e l'estate ormai è un lontano ricordo. E il rientro dalle vacanze è ancora più traumatico di quanto non lo sia già in questi ultimi giorni. Anche il Molise, infatti, come gran parte delle regioni italiane, è interessato da una intensa ondata di maltempo che sta provocando danni e disagi. A Campobasso i violenti acquazioni dei giorni scorsi hanno lasciato il segno provocando danni e disagi in città. E anche il litorale, che era stato risparmiato ieri, è stato investito da una vera e propria tempesta di fulmini. A Porto Cannone una bomba d'acqua si è abbattuta sul paese provocando allagamenti a strade scantinate. E la costa ora deve fare i conti con l'alarme arancione di ramata della protezione civile per la giornata di oggi. Danni dunque alle strade, alle abitazioni, ma anche all'agricoltura. Le violente grandinate e la pioggia abbattente hanno danneggiato le culture di pomodori pronti per essere raccolti. Ma il rischio è che anche i vigneti possano fare la stessa fine se il maltempo continuerà ad abbattersi sul Molise. Le previsioni non sono incoraggianti. La settimana che si è appena aperta sarà caratterizzata da clima instabile con precipitazioni diffuse che localmente potranno essere di forte intensità. Una tregua è attesa per domenica prossima, quando il maltempo dovrebbe allontanarsi per lasciare spazio a qualche spiraglio di sole senza che però le temperature possano tornare a salire di nuovo. Insomma, l'estate è davvero finita. Al via le procedure dell'azienda sanitaria regionale per stabilizzare 142 precari. L'avviso è stato pubblicato il 30 agosto per diversi profili professionali. Entro il 2020 verranno assunti 90 infermieri, 6 fisioterapisti, 6 collaboratori amministrativi, 8 assistenti amministrativi, 2 dietisti, 6 logopedisti, 8 autisti di ambulanza, 8 dirigenti veterinari, un biologo genetico e 7 assistenti sociali. Tempi e modalità per presentare le domande sono consultabili sul sito web dell'azienda sanitaria regionale. Sono 330 i giovani aspiranti medici arrivati oggi da mezza Italia all'Università del Molise per sostenere il test di ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia. I posti a disposizione sono 75. Anche in questa circostanza l'Ateneo ha allestito appositi stand per garantire l'accoglienza anche alle famiglie e agli eventuali accompagnatori dei candidati. Previsto inoltre uno spazio fruibile per tutti con un punto ristoro e servizio bar, un servizio di assistenza sanitaria oltre ad apposite aree per il parcheggio con collegamento pedonale tra edifici universitari. L'Unimol ha anche previsto per gli interessati delle visite guidate alle strutture universitarie, segreterie didattiche, aule didattiche, di studio, informatiche multimediali, biblioteca di Ateneo, palazzetto dello sport. Torniamo a parlare di lavoro. Si preannuncia un autunno caldo per il settore metalmeccanico. Il Consiglio di fabbrica della FCA chiede un incontro con l'azienda per chiarire il nodo degli investimenti. Sentiamo Manuela Iorio. Si preannuncia un autunno caldo per il settore metalmeccanico. Tanti ancora i nodi da sciogliere e i sindacati chiedono chiarezza sul futuro della Fiat a Termoli. Entro il 2019, in contrada rivolta del Re, si dovrebbe partire con la produzione del motore ibrido, dando il via ai nuovi investimenti. Ma finora nessuna comunicazione è arrivata e anche per le linee di produzione al momento non sono previste trasformazioni. Il continuo ricorso alla cassa integrazione e i volumi produttivi in discesa preoccupano i sindacati che, riuniti nell'ultimo Consiglio di fabbrica, hanno chiesto alla direzione aziendale un incontro per conoscere le future emissioni produttive di Termoli, sollecitando l'intervento anche delle segreterie nazionali. Intanto, proprio i sindacati sono a Roma e domani ci sarà un tavolo al Ministero per la vertenza pomigliano, ma anche per discutere del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Sarà l'occasione per incontrare i vertici Fiat e chiedere lumi anche su Termoli. Il periodo non è dei migliori, i consumi sono in calo, lo stesso possibile acquirente in confusione tra eco-tassa e motore ibrido che ancora non parte. Sul tavolo anche possibili fusioni della Fiat dopo le voci circolate in estate e che spiegherebbero i ritardi sugli investimenti da avviare. Insomma, tanti interrogativi da sciogliere, mentre a breve verrà comunicato il nuovo periodo di cassa integrazione. Continua a Isernia la battaglia contro le strisce blu, la macchina di Ovidio Bontempo, avvocato e vice segretario provinciale del Partito Democratico, è stata imbrattata da alcuni vandali con strisce blu, appunto un segnale, un avvertimento o solo vandalismo. Certo è che Bontempo è stato ed è uno dei più fieri oppositori del nuovo sistema di pagamento delle soste. La sua vettura, una panda grigia, era regolarmente parcheggiata sotto casa a lungo via 24 Maggio, uscito dalla sua abitazione, ha trovato l'auto completamente imbrattata con una vernice spray di colore blu. Le strisce blu, il colore non è casuale, sono state disegnate su tutta la carrozzeria. L'avvocato Bontempo si è recato presso la caserma dei Carabinieri a denunciare l'accaduto. I militari dell'arma indagano sull'episodio. Parliamo ora della cosiddetta transiberiana del Molise, il treno che viaggia nel tratto che collega sul Mona a Carpinone, un percorso diventato una vera meta turistica, per cui sono stati programmati diversi appuntamenti. sentiamo ancora Giovanni Di Tota. Dopo l'esperimento riuscito con i treni della neve promossi da Fondazione Ferrovie dello Stato, che tra febbraio e marzo hanno collegato Roma con Sulmona e Roccaraso, a partire da settembre sono previste nuove partenze con i treni storici sulla ferrovia Sulmona-Isernia, che ripropongono la formula del weekend. Il primo appuntamento in calendario è per sabato 14 e domenica 15 settembre, partendo da Sulmona e percorrendo l'intero percorso, oltrepassando l'Appennino, sarà possibile raggiungere alcune delle più suggestive località del territorio dell'Alto Molise, fino ai capoluoghi Isernia e Campobasso. Un intenso fine settimana che offrirà l'opportunità di partecipare a tante manifestazioni collegate all'iniziativa denominata Prossima Fermata Molise, che prevede il contributo della regione nell'ambito del Bando Turismo e Cultura, a cui partecipa anche l'Associazione Le Rotaie, convenzionata con le ferrovie. Oltre al viaggio a bordo di vetture d'epoca lungo la panoramica transiberiana, sono previste degustazioni itineranti di prodotti tipici delle aziende agricole e casearie locali, mentre a Isernia, dove è previsto il pernottamento, i viaggiatori saranno coinvolti nei festeggiamenti per l'anniversario della riapertura della linea e in rassegne culturali e musicali. Il giorno successivo il treno storico proseguirà la sua corsa verso Campobasso con la visita del centro storico e rientrerà sul Mona nel pomeriggio. L'iniziativa con i treni del weekend sarà replicata due volte in autunno con nuove partenze i prossimi 5 e 6 ottobre e 2 e 3 novembre. Conto alla rovescia per Magna Storia, Isernia è pronta per la tavolata di una cena da record in programma per venerdì, quando una fila ininterrotta di tavoli partirà dalla chiesa di San Pietro Celestino per arrivare a Piazza Concezione, particolari nel servizio di Enzo Di Gaetano. Una tavolata lunga 823 metri, pronta ad accogliere più di 1.500 persone lungo tutto il centro storico di Isernia, un evento destinato a entrare nella storia della città e nel libro dei record, quello in programma, Isernia, venerdì 6 settembre a partire dalle 20. Segno che quando si uniscono le forze è possibile davvero dare vita a qualcosa di unico. Il nome scelto per la manifestazione Magna Storia, mille passi di banchetto tra i preistorici e i pentri. E a Palazzo San Francesco si è tenuta la presentazione a illustrare il programma. Emilio Izzo, portavoce degli organizzatori, insieme al sindaco della città, Giacomo D'Apollonio. È una cosa molto interessante, peraltro noi come amministratori l'abbiamo immediatamente condivisa perché crea vitalità, crea quello spirito di coesione, di unità, di socializzazione che spesso in una città, in una comunità ci deve essere, quindi questo è lo spirito giusto. Mi sono anche complimentato con gli organizzatori perché hanno creato dopo i primi contatti devo dire una organizzazione molto molto dettagliata perché ci sono quei requisiti di security che devono garantire per cui era necessario poter fare un piano molto molto preciso. C'è un coinvolgimento della protezione civile, delle ambulanze, tutto il percorso è stato ben assegnato e con una parametria molto dettagliata. Io gli ho fatto pubblicamente i complimenti. Ecco, ma il Comune logisticamente interviene anche il Comune con Vigili Urbani, personale tecnico? Certo, noi ovviamente faremo la nostra parte perché ci saranno da creare delle vie di fuga, da sistemare delle chiusure, delle strade, i Vigili Urbani saranno presenti. Noi patrociniamo l'evento, quindi il Comune è a fianco di questa associazione, di questa iniziativa soprattutto e patrocineremo questo evento che altrimenti se no avrebbero dovuto portare anche l'occupazione solo pubblica. L'evento è aperto a tutti, basta portarsi dietro tavolino, sedie e qualche prelibatezza da gustare per cena e perché no condividerla con gli altri commensali. Anche ristoranti e attività commerciali della zona parteciperanno fornendo la cena a chi viene da fuori. Per prenotarsi, ha annunciato Emilio Izzo, c'è ancora qualche giorno di tempo. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione ben 12 bagni chimici che verranno installati lungo tutto il percorso, fondamentale il contributo del Comune, anche per mettere a punto il piano di sicurezza. Dunque nessun particolare è stato tralasciato per un evento destinato a lasciare il segno. In caso di maltempo, Magna Storia verrà rinviata e sarà data comunicazione 24 ore prima. Daniele Di Lelio di Monte Rotondo è il vincitore del concorso fotografico abbinato alla mostra di Tony Vaccaro. Un gruppo di pecore in movimento colto in un gioco di luci è stato il soggetto scelto dal vincitore che in questi giorni è andato in giro per il Molise alla ricerca del suo scatto vincente. Ha chiuso a Termoli la mostra di Elio Franceschelli Olio su acqua che è stato possibile visitare nell'atelier Settimo Piano di Michele Porsia un'esposizione che ha toccato temi ambientali distringente. Attualità, sentiamo Manuela Iorio. Olio e acqua, due elementi che insieme si contrastano e si fondono allo stesso tempo e che con l'aiuto del vetro e con l'estro dell'artista danno vita a opere d'arte che trattano il tema dell'ambiente aprendo una riflessione sulla contemporaneità. Si è chiusa a Termoli, mare e olio la mostra dedicata alle opere di Elio Franceschelli artista isernino di prestigio internazionale che ha esposto a New York alla Biennale di Venezia del 2011 curata da Vittorio Sgarbi e non solo. Le sue opere sono rimaste esposte nell'atelier Settimo Piano dell'architetto e curatore della mostra Michele Porsia una inusuale quanto interessante location che si trova proprio al settimo piano di Palazzo Narducci in via Saverio Cannarsa in pieno centro a Termoli. Il tema fondamentale è duplice ed incrociato. Da un lato c'è il tema ambientale, quindi dell'olio che rende l'acqua sterile e priva di vita dall'altro lato c'è un tema sociopolitico, cioè del nord che opprime la parte del sud del mondo e l'ovest e l'est che hanno delle contaminazioni. Quindi in questo senso è un'operazione molto profonda perché da un lato mette insieme questo aspetto sociopolitico ed ecologico molto pesante dal punto di vista concettuale, dall'altro però riesce ad ottenere un effetto molto brillante dal punto di vista estetico. Una ricerca artistica che si lega alla tradizione dell'arte povera tutta italiana unendo materiali di scarto, in questo caso oli esausti, che si lega al minimalismo storico e riesce a dialogare con la pop art nordamericana. Nella serie Olio su acqua, secondo Porsia, i significati si moltiplicano e si sovrappongono, stratificandosi con un processo naturale di bilanciamento tra pesantezza e leggerezza. La ricerca artistica di Franceschelli ha anticipato almeno di vent'anni gli argomenti ecologisti contemporanei. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.